Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ben ritrovati, e questo è The Night Live Red, no, buongiorno anzi, questo è Good Morning Milano, volevo iniziare soft ma so che devo tirarvi giù dal letto, devo darvi la sveglia quella forte, quella che vi scuote, quella lì che veniva la mamma in camera da letto, tirava sulla tapparella mentre voi stavate ancora dormendo, proprio quella lì sì, quella lì, quella che un po' odiate ma un po' poi vi manca quando non c'è, quindi eccomi qua, eccomi qui a svegliarvi tutte le mattine, 7.09, martedì 17 settembre 2024, sono appunto le 7.10 quasi in questo istante e tutto va bene per il momento, poi vedremo cosa succederà durante la giornata, ma per adesso non può andare niente storto, adesso vi alzate tranquilli, sereni, c'è chi di voi dirà sì vi alzate, sono già sveglio da due ore, sono già in giro a Trabahar, invece c'è chi altro che invece non sta sentendo ancora niente perché è ancora di bello che dorme e si sveglia verso le 7.30-8 quando andiamo con magari il il giornale radio, comunque tutta la mattina qui ancora Crystal Radio, Good Morning Milano appunto dalle 7 alle 9, le notizie, le informazioni su Milano, insomma tutto quello che c'è un po' in giro da leggere e da raccontare le storie di questa grande città e poi anche ospiti che insomma ci verranno a raccontare un po' appunto che cosa succede a Milano. Tutto questo appunto è Good Morning Milano, tutto questo è la mattina di Crystal Radio, 331-78-535-55 il nostro numero di Whatsapp, potete scriverci, raccontarci quello che avete fatto ieri, quello che avete in programma durante la giornata, insomma continuiamo a raccontarci tutta la giornata. Dai Proclaimers, I'm gonna be 500 miles, 7 e 14 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, questa era la sveglia, questo era il modo per farvi partire, a me viene da marciare su questa canzone, quando fate prendere andare, prendere andare, speriamo che appunto prendiate e andiate nelle migliori delle maniere in questa mattinata di settembre in Milano oppure magari state affrontando il lungo e duro viaggio dei pendolari che ogni giorno dalla provincia e anche oltre si svegliano sapendo che dovranno correre, non perché sono leoni o perché sono gazzelle, ma perché il treno sarà in ritardo e quindi giù a correre verso la stazione e poi giù a correre verso la metropolitana e poi giù a correre verso il tram e poi l'ultimo miglio che si fa o col monopattino a noleggio lì, oppure sgomitando insieme alle altre persone cercando di arrivare i primi che faranno e quando si timbra, quando si entra in azienda, nella mia testa il badge fa quando entri in azienda fa un rumore lì, non lo so, sai che, allora vi do questa cosa, ho timbrato nella mia vita, in tutta la mia vita, in 44 anni di vita, ho timbrato solo 18 mesi, l'unica volta che è stato assunto in vita mia 18 mesi, tutte le altre volte ero co-co-co-co-co-pro, partita IVA, chiamato così a caso, passavo di per caso, buttato dentro senza contratti, insomma è sempre stato abbassato, quindi tutta la mia vita 18 mesi e basta fare blub blub, non facevo neanche così in realtà, infatti facevo sempre dei casini, comunque la precarietà, la precarietà signori, non è che radio, però anche negli altri lavori, effettivamente, 44 anni di vita, 18 mesi e basta di assunzione nella mia vita, quindi quando vi lamentate del precariato, pensate sempre che esisto io, esiste anche peggio di me, tipo i professori, gli insegnanti che vengono, cambiano ogni anno la scuola, insomma quelle robe lì, comunque, e c'è chi invece anche a un certo punto si rompe le scatole di tutte queste precarietà o queste difficoltà e sciopera, ad esempio ho ciò che venerdì 20 settembre a rischio tram, bus e metropolitane a Milano, oltretutto durante la settimana della moda. L'agitazione del personale viaggiante ed esercizio di linee di superficie metropolitane sarà dalle 8.45 alle 15, dai 18 fino al fine servizio, siamo tornati ai vecchi orari che almeno sappiamo e non abbiamo problemi. I mezzi saranno garantiti da inizio servizio dell'8.45 e tra le 15 e le 18, bisogna specificare, c'era scritto sopra. Comunque è ancora tutto un attimino, bisogna capire se proprio l'agitazione c'è, agitazione indetta da USB lavoro, i club trasporti, e COBAS lavoro privato, quindi un po' di sigle sindacali, in tutto durerà 24 ore, saranno appunto a rischio metropolitane, bus e tram, ATM a Milano, negli orari saranno quelli appunto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio, questo venerdì. La cosa da tenere sotto controllo, cioè da tenere in mente soprattutto, è il fatto che siamo nella piena settimana della moda, quindi già è un burdel di solito, già non si trovano taxi manco a pagarli e quindi non sappiamo minimamente come muoverci se non con i mezzi pubblici, in questo caso rischiamo anche se non ci saranno i mezzi pubblici, vedremo. Non credo, non so se si possono coiptare, non credo che possano fare niente, esiste sempre la bicicletta, come mi suggerisce giustamente Beatrice della regia, effettivamente, quindi avete qualche giorno, un paio di giorni, se non ce l'avete compratevela, oppure quella in sharing, quindi pedalare gente, pedalare! I pingüini tattici nucleari, eccoli qua, direttamente da Bergamo, qui scendono anche loro, chissà se anche loro si fanno queste domande sul traffico, da Bergamo con la 4, trovano sempre venire a Milano, dobbiamo fare con il Centro Milano, no, che c'è traffico, facciamolo dall'altra parte, andiamo a Brescia che dall'altra parte facciamo prima, invece devono venire qua. Comunque, mi piace che ieri vi abbiamo parlato del fatto che ATM aveva trovato forse delle soluzioni per scongiurare gli scioperi e tutto, infatti mi ha appena detto che venerdì ce ne sarà uno. Vabbè, qui è bello perché la rassegna stampa, di cui io non mi prendo le responsabilità, perché appunto è roba che scrivono altri, io non faccio nient'altro che dirvi dove andare a trovare le notizie, se volete andatevele a leggere sui giornali. Ogni giorno dice tutto il contrario di tutto, cioè un giorno ti dice che Milano è la città più sicura del mondo, poi esce il nuovo report di solo 24 ore che ti dice che Milano è la città con più denunce e una delle più pericolose in Italia. Poi dopo ti dice Milano virtuosa, facciamo super green e poi esce fuori l'altro report che dice che Milano invece è super inquinato, perché ogni tanto scrivono delle robe, cioè l'anno scorso abbiamo letto che Milano era peggio, più inquinata di Pecchino, poi si era scoperto che i dati avevano sbagliato a leggere la scala del dato, cioè bastava spostare una virgola ed era giusto, cose del genere. Anche se devo dire però, e qui difendo i colleghi giornalisti che ogni giorno devono trovare qualcosa da scrivere sui giornali, a volte non è per niente facile, perché torniamo sulla vicenda stadio. Abbiamo parlato anche ieri, si è rifatto tutto il giro del Giro dell'Oca, del Monopoli e dell'Ottagono, si è ritornato tutto al punto di partenza. Tant'è che oggi Corriere della Sera Milano fa un articolo con scritto Stadio Milano, la telenovela infinita, che cosa è successo in questi 16 anni di progetti mancati? 16 anni, e sì, perché è già dal 2008 che si pensa a uno stadio più moderno, era stato fatto dopo l'ultimo intervento che era stato fatto al Meazza, credo fosse quello per la finale di Champions League, se non ricordo male. All'epoca l'Inter di Moratti puntava verso la Bovisa, poi mi ricordo anche, ricordate la questione del Milan che doveva fare lo stadio in fiera? Tutto pronto, anzi hanno dovuto pagare anche delle penali, delle multe, perché poi alla fine hanno fatto ghosting, si sono ghostati quando hanno detto Bene, c'è da pagare! Ok, avanti! Pronto? Pronto Silvio? Silvio, scrivono i messaggi e la famiglia Berlusconi non rispondeva più praticamente, no? E quindi poi hanno dovuto cambiare idea, più o meno è andata così, no? Poi sono tutti i progetti adesso, ultimamente, su Sandonato e Rozzano, il piano WeBuild, ma vi dico di più, io mi ricordo, metà anni Ottanta, l'idea dello stadio a Cusago, c'era stata anche questa l'idea? Eh sì, perché Berlusconi stava facendo da quelle parti lì le case nuove, stava facendo un nuovo polo, facciamo lo stadio lì, l'idea c'era stata anche già negli anni che furono di spostarlo a Segrate, perché insomma Milano 2, cercare di fare un grande polo, insomma, è veramente una storia infinita. La trovate sul Corriere della Sera Milano, ma vi dico di più, fino a un certo punto, penso che poi seguiamo in realtà la storia, proprio all'inizio del 2016-17, anche 18 forse, lo trovate anche sul sito di Milano News Storie, se andate lo trovate ancora, c'è un bellissimo report, un lungo articolo, ci vuole qualche oretta, per guardarselo tutto, però proprio con grafici, dati, che abbiamo fatto qualche anno fa, appunto, intorno alla questione San Siro. Magari poi oggi, Beatrice, sentiamolo che lo linkiamo nel nostro articolo sul sito, così almeno chi vuole può andarselo a vedere, no? Andiamo a vedere il nostro lungo articolo di Slow Journalism sulla storia dello stadio di San Siro, ma non tanto la storia, cioè quando sono costruite così, ma sulla storia, nel senso, cosa se ne farà, quale sarà il futuro del stadio di San Siro, qui al momento nessuno ne capisce qualcosa, nessuno sa niente, quindi cercheremo di stare alla finestra e vedere cosa succede. Madonna con Celebration alle 7 e 27 minuti, sempre qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, arrivano i vostri Whatsapp e quindi andiamo a leggerli, come quello di Alberto che dice un saluto a tutti i cristallini, al buon Fabio, alla redazione di Good Morning Milano. Siamo tornati alla quotidianità e questa sera riparte anche la Champions con il traffico in zona San Siro, a proposito appunto di stadio, ne abbiamo parlato, e quindi sì, questa sera riparte la Champions, quindi se siete in zona San Siro, attenzione al traffico, ma adesso Rino Gaetano sfiorivano le viole. Farrell Williams, piece by piece, 7 e 37 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. I giornali ci danno notizie di tutti i generi, belle, brutte, a volte anche un po' di spaccato di realtà, delle fotografie, ma è anche interessante vedere come nello stesso giornale, magari nello stesso giornale online, si vanno a combinare più notizie che ti fanno capire, insomma, ogni tanto succedono delle strane accozzaglie di notizie. Altre volte invece avvengono degli accostamenti che danno ancora più forza al titolo che ad esempio andiamo a leggere. Ad esempio, in questo momento parliamo di giovani. Giovani, allarme salute mentale, uno su tre ansioso, depresso o con difficoltà di relazioni. Le ragazze sono le più colpite. Questo titolo, che insomma non fa presagire niente di buono nello svolgimento dell'articolo che dopo andremo a leggere, è correlato a fianco da un'altra notizia che non c'entra niente, ma nella colonna di fianco vengono fuori altre notizie, che è il video del treno deragliato a Milano, il momento dell'impatto visto dalla cabina del macchinista. A chiunque verrebbe l'ansia. Adesso non è, nel senso, a maggior ragione, ecco perché, nel senso che ormai vediamo tutto. C'è questa cosa che ormai, una cosa come quella successa nel treno deragliato qualche giorno fa a Milano, che per fortuna poi è riuscito a frenare in tempo, ha avuto questo impatto abbastanza forte contro il container, ma non ha recato danni e non ha avuto vittime, per fortuna, così che tutto è finito bene, ma comunque fa venire un'ansia pazzesca, pensare che adesso manco andare sul treno tranquillo che mi porta da Garbagnate a Milano, ad esempio, posso stare lì seduto, bello, pacione, ad ascoltarmi la mia musica? No, devo stare con l'ansia che davanti mi trovo un caterpillar fermo sui binari, no? Ecco, quindi insomma, capisco che l'ansia possa venire anche per vari motivi. Qui in realtà i motivi sono molto più profondi e molto meno fattuali, diciamo, tant'è che lo studio dell'Università Yulm e della Fondazione Villa Santa Maria dice che l'indice del benessere Under 25 è per la prima volta sotto la soglia di guardia. Un terzo dei giovani milanesi, leggo appunto da Corriere della Sera a Milano, si trova in uno stato di malessere psicologico e sembra appunto che sia la prima volta che accade da quando si indaga la salute mentale. e il benessere mentale dei giovani. Ansia, depressione, difficoltà socio-relazionali in crescita dopo la pandemia e il rifugio, tra molte virgolette, nei social, ora evidente anche nei dati. Una discesa al di sotto la soglia di guardia, almeno secondo i questionari appunto più creditati a livello mondiale per intercettare questo disagio. Lo scenario di fronte a cui ci troviamo spiega Enzo Grossi, direttore scientifico del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Villa Santa Maria, è quello di giovani stressati, soprattutto se donne, e indicano in negativo la vita in città e il non essere laureati. Questo è quello che viene fuori appunto da questi questionari, tra questi questionari internazionali, cioè vagliati dalla comunità scientifica, che hanno appunto fatto gli esperti del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria appunto Villa Santa Maria. Lo spaccato è appunto da questo studio, che è stato pubblicato nel volume La città che cambia, vita quotidiana e attività turistica, ma da cui appunto è uscito questo dato sui giovani invece che vivono male, malissimo anzi, da quanto sembrerebbe, la vita in città. 15.000 ragazzi tra i 19 e i 25 anni, tra lavoratori, studenti e pendolari, sono quelli che hanno risposto appunto alle domande del questionario. L'indice utilizzato per l'analisi attribuisce a ogni campione di intervistati un valore da 0 a 110, a seconda del punteggio indicato per provere ogni domanda. In questo caso i ragazzi ne erano state sottoposti appunto 6, tra cui nelle ultime 4 settimane è stato infastidito da stati di tensione o perché aveva i nervi a fior di pelle. Le risposte le da per nulla appunto ha enormemente e hanno portato dei dati davvero interessanti. Quanta energia e vitalità ha avuto o ha sentito di avere? E incrociando i risultati appunto quelli del 2008, del 2018, l'andamento è stato sempre in calo fino appunto a oggi, passando dai 77,7 dell'epoca ai 75,7 del 2018. Adesso l'indice più o meno, appunto questo indice che viene ricavato da queste domande è, lo ripeto, è 77,7 nel 2008, 75,7 nel 2018, 68,5 nel 2024. Insomma 10 punti in meno praticamente rispetto al 2008. E pensate che lo stato di malessere è fissato sui 70 punti, quindi per la prima volta finiamo sotto il livello che appunto i scienziati definiscono come stato di malessere. Datevi un'occhiata, dateci un'occhiata a questo articolo su Milano, su Corriere della Sera Milano perché è molto molto interessante. E come anticipato appunto le donne registrano un benessere psicologico inferiore rispetto ai maschi, specie in età adolescenziale. Quindi anche quella ancora più colpita le giovani, le giovani ragazze, soprattutto in età adolescenziale. Poi la salute dei laureati supera quella dei diplomati, quindi sembrava che gli strumenti forse servono anche per stare un po' meglio con se stessi. Sempre secondo l'indice utilizzato negli anni pre-pandemia si attestava sugli 80 punti contro invece i 70 gradi appunto di istruzione che sono al momento. Quindi insomma l'esito finale, stress e disagio mentale acuti, sempre post-Covid. Cioè sembra che appunto quel momento è stato fondamentale per poi adesso far fatica, molta molta fatica, a uscirne. Molto interessante, Milano Corriere, Corriere Milano, dateci un'occhiata. Bamboleo, Gypsy King e come si balla, come si balla. Piccola nota divertente sui Gypsy King. Allora si chiamano Gypsy King, è il nome di un gruppo, no? Per capire come anche il percepito, il politically correct, a volte tocca dei punti che mai pensavo di poter trovare. Qualche mese fa, qui in redazione, stavo parlando con la redazione e dicevo ah no, dobbiamo mettere i Gypsy King. E vedo la faccia, adesso non mi ricordo che forse, forse è meglio così, di una delle nostre producer, delle nostre ragazze che lavora in redazione che diventa scura in volto. E mi dice, beh, però insomma, quella parola sarebbe meglio non usarla. La parola Gypsy, no? Diceva, perché insomma, è un po' demigrante. Capite, si chiama così il gruppo, però non posso farci niente. Cioè, non posso farci nulla. Però vedete come lei non sapeva minimamente l'esistenza di questo gruppo, non lo conosceva e quindi è rimasta un po' scruvolta dal fatto che si usasse la parola Gypsy così, in quella maniera lì, che in realtà era appunto il nome, semplicemente il nome del gruppo. Grazie a chi ci sta scrivendo i WhatsApp, grazie ad Adriana, che dice appunto che, insomma, l'articolo che leggi vi è molto, molto, molto vero, molto, molto, molto vero quello che leggi. E dice, a me questa cosa inquieta anche tanto, e beh, insomma, immagino. E dice, vedo anche in giro molte ragazze che effettivamente hanno difficoltà nelle relazioni, nel vivere il momento e dice, tanta, tanta depressione e spesso anche tanti, tanti psicofarmaci. Effettivamente, insomma, anche quello è un tema molto, molto importante, molto interessante, anche lì da indagare perché, lo dice uno che guarda, io sono sempre stato contrario ai psicofarmaci, proprio così, to cure, senza neanche pensarci. Ho visto invece su alcune persone vicino a me quello che possono fare in positivo, ma ho visto anche su altre persone vicino a me quello che possono fare in negativo. Quindi, insomma, è veramente un tema difficile, dove è complicato prendere una posizione e dire, io sto lì, perché veramente ogni caso, ogni persona, ogni momento della nostra mente è qualcosa da dover indagare molto, molto profondamente e farlo fare magari non a un professionista, ma a più professionisti, così che, insomma, si abbia un quadro più completo su un tema, però abbiamo visto, insomma, molto importante e lo vediamo come tutti i giorni, veramente, che, insomma, siamo un mondo che è complicato. Ben like this, Megan Trainor, Cristal Radio, good morning Milano. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra prima ora di programmazione, fra poco il giornale radio, luce verde, il cristallistro, e poi arriveranno anche i nostri ospiti qui in redazione, e poi qui in studio dietro al microfono con voi, 750, appunto, in questo istante, 331-78-53555, il nostro numero di Whatsapp. Al momento sembra che fuori ci sia un tempo più o meno stabile, così, però danno ancora pioggia in questi giorni, quindi bisogna stare un po' all'occhio, portatevi lo spolverino, così si diceva, no, non lo chiami spolverino, l'impermeabilino piccolo, leggero, lo spolverino, anche se leggero un corto, mi viene da dire, perché c'è un 14 gradi in questo momento fuori. Allora, dipende, la Beatrice mi ha guardato con la faccia un po' di dire, come è 14 gradi? Allora, Bea, dal monitor di studio mi dice 14 gradi, il monitor dietro di te che vedo in fondo alla redazione dice 16, quindi sono due gradi di differenza tra una parte e l'altra della redazione, e quello che mi piace è che sono presi dallo stesso sistema, quindi vorrei capire come sia possibile, forse si sta aggiornando, forse adesso sono 16 gradi, comunque sta di fatto che sì, il frescolino le arriva, e quindi attenzione, perché insomma, poi dopo non è che, capito, ecco. Comunque, la situazione delle linee metropolitane, così per il momento è tutto regolare, sembrerebbe, tranne appunto, vi ricordo, linea 1, 12 e 40, che hanno dei cambi di percorso, quindi dovete andare sul sito di ATM per dare un'occhiata, metro appunto sì, in questo momento è regolare, quindi tutto tranquillo quello che scorre sulla città, compresi Seveso e Lambo, sappiamo che nelle scorse settimane, insomma, hanno dato, no, le scorse settimane hanno dato un po' di dispiaceri, chiamiamoli così, se non preoccupazioni, anzi, a tutti i cittadini, e quindi rimanete collegati con noi, rimanete qui su Cristal Radio, perché adesso appunto un po' di musica, poi il giornale radio, e poi torniamo qui con i nostri ospiti in diretta, come sempre, dalle 7.09 qui su Cristal Radio, Good Morning Milano, FM 96.2, da Blas e poi tutto il resto. E questo era Cyndi Lauper, Time After Time, il Cristal History delle otto, e sì, lo sapete, ogni punto ora, così si dice in termini tecnico, alle 0.00 di ogni ora, più o meno, va una canzone, che insomma ha fatto la storia della musica, di quella di una volta, potremmo dire così, e questo caso, era Cyndi Lauper, e invece, fa la storia della città, e la continua a fare, non solo una volta, ma più volte, Mario Donadio, buongiorno Mario. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, Mario Donadio, per quei pochi che non ti conoscessero, come posso presentarti? Colui che mette il becco in tutto, le cose belle di questa città. No? Sì, sì, diciamo che sono un attivista volontario, su tanti fronti. Attivista volontario mi piace molto, sì, perché no, tu sei praticamente, un volontario, ma di che associazione? Ecco, qui si apre un capitolo, perché non è che tu dici, sai, io sono l'associazione Vidas, sono l'associazione Spazio Umano, sono un volontario della Croce Rossa, no, tu in realtà, dove c'è volontà, ti volontari. Sì, diciamo, ho l'animo e la curiosità di conoscere le associazioni e di entrare in relazione con loro, ecco, più che averne una mia, ne ho una, però diciamo che la mia passione è quella di conoscere tutte quelle che sono le realtà associative sul territorio. E ne conosci così tante, che ad esempio, nel municipio 5, giusto mi sembra, nel municipio 5, c'è un gruppo WhatsApp che si chiama Los Amigos, che quanta gente c'è dentro più o meno? Eh sì, adesso siamo quasi 150, 150, e sono tutte appunto persone attiviste del territorio che si scambiano pareri, pensieri, e poi anche interagiscono nel farsi conoscere i propri appuntamenti che fanno. io ho l'onore di far parte anch'io di questa chat, quando Mario l'aperta, io poi, sempre sei miscredente che non sono altro, Mario, bella idea, quarto d'ora, 20 minuti non di più, poi si scanneranno tutti tra di loro, non durerà niente, e invece no. Ma sì, infatti la cosa bella di questi gruppi è che nel momento in cui riesci a far passare un certo tipo di messaggio, c'è dell'anarchia costruttiva, nel senso che le persone riescono a relazionarsi e forse anche ad avere un comportamento bello, bello, e non polemico, al di là che ogni tanto qualche discorso un po' più acceso nasce, però devo dire che più siamo e più questa cosa si riesce a entrare in un regime di calma. Ecco, questo amore per il far sociale, le altre associazioni, ti ha volato anche un giorno a dire ma io ho un pezzettino di sparti traffico davanti al tuo posto di lavoro, in realtà, neanche davanti a casa tua, giusto? quindi volendo uno potrebbe dire ma che me frega a me, no invece io ci passo tanto tempo lì, mi piacerebbe vederlo meglio di quello che era, diciamo, ecco così. E tu hai preso, hai adottato una piccola iguola, giusto? Sì, sì, Allora, ti chiedo solo questo, tu l'hai adottato, hai fatto un contratto, un patto di, hai messo delle fioriere, giusto? Sì. Cosa è successo quando si è tornato alle vacanze? Le fioriere non c'erano più, sono sparito. Va bene, questo è quello di cui parleremo, subito dopo la canzone che va, ma vi do uno spoiler, non le hanno rubate, no, sono state tolte dal comune, più o meno, vedremo bene chi, però sono state tolte, diciamo, dall'istituzione, quella stessa, che però gli aveva detto, puoi fare quel lavoro lì, insomma, per farvi capire come l'istituzione poi è complicata, anche al suo interno. Adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui perché Mario ce la racconta bene e anche qui si capisce la grande intelligenza di Mario che non fa polemica sterile, ma vuole da qua far capire come si potrebbe migliorare le cose, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione. E allora Mario Donadio qui con noi, il volontario attivista Mario Donadio, che appunto in che anno hai pensato di prenderti cura di quella Aiwola? Quella in particolare cinque anni fa. Ok, cinque anni fa, tu davanti, a me piace comunque questa cosa, io la sottolineo, perché molti non l'hanno sottolineata, che era davanti al tuo lavoro, perché uno pensa, va bene, davanti a casa, mi metto a posto, va bene, la prendo a cuore, il quartiere, ma lì in realtà non è il tuo, tu abiti lontano da lì, cioè non lontano, ci sono abiti lì comunque, però giustamente ci passi otto ore della tua vita tutti i giorni, no? Sì, sì, sì. E quindi ho detto, ma io mi prendo cura di quella Aiwola, te ne sei presa cura, hai messo delle fioriere, il finale diciamo è stato di mettere delle fioriere, che però appunto, quando sei tornato a casa dalle vacanze, non c'erano più, non se le erano rubate qua del piano sopra per mettere sul terrazzo, ma? Purtroppo dopo una serie di, tra virgolette, indagini personali. tra predisi, perché come quando ti portano via l'auto, che la metti sotto i viettata, no? Che tu sai, me l'hanno rubata, me l'hanno fatto via, non lo sai, devi indagare come è successo. Sì, sì, ho indagato. Qui non c'era nessuna sotto i viettata delle fioriere, ma? No, ho indagato grazie alla soffiata, diciamo, di un inquilino del piano di sopra, ho scoperto che erano state portate via da l'AMSA. Ah, colpevoli, no? Perché anche l'AMSA non è colpevole in realtà a questa storia. No, L'AMSA ha fatto il suo lavoro? No, no, esatto, l'AMSA ha fatto il suo lavoro, è tutto nato da un qualcuno che evidentemente non gradeva il fatto che queste aiole impedissero il parcheggio, è un parcheggio abusivo perché poi era uno spartitraffico dove ci sono delle piante, quindi è proibito parcheggiare, e quindi ha fatto questa denuncia, è uscito la polizia locale, e ha ritenuto, ha pensato che quelle fioriere fossero abusive, in realtà io avevo un permesso appunto regolare, e è andata così, ecco. Tant'è che poi tu comunque hai chiesto anche spiegazioni al Comune, no? E anche il Comune è rimasto abbastanza abbranzito da questa cosa. Sì, infatti la sorpresa è stata appunto, al di là di non avere una risposta immediata, e il fatto che lo stesso Comune non mi ha saputo dire all'inizio che cosa fosse successo, appunto grazie a questa indagine e a questa soffiata sono riuscito a capire, dopodiché è arrivata la scusa da parte della Parca e Giardini, che la Parca e Giardini però non era la responsabile. Una scusa per causa, cioè in realtà sono vittime anche loro di questa cosa. Infatti anche loro mi hanno detto, anche noi non eravamo stati avvisati. Ecco, e qui secondo me, ma io non do neanche la colpa al vigile che è venuto lì a fare quella roba lì, non riesco a dare la colpa a nessuno in questa storia, se non a tutti quanti, nel senso che il problema qui sembra proprio che, cioè non vi parlate tra una porta e l'altra degli uffici, cioè la mano destra, come è che si dice, la mano destra non sa quello che fa la sinistra, è un po' questo, è un po' quello che spesso e volentieri in una grande città sono i problemi che si incontrano, quelli della difficoltà di comunicazione fra compartimenti stagni, e quindi la mancanza di dialogo, di coordinazione, che poi porta appunto a queste vicende che sono un po' complesse, diciamo, non tristi, ma complesse, ecco, perché per chi si è fatto anche, diciamo, un bel lavoro per tanti anni. Eh sì, infatti, insomma, immagino che il mazzo, come si dice in questi casi, di fiori, ma mazzo di fiori, per mettere nella fioriera, insomma è stato abbastanza grosso in questi anni. La cosa però interessante, questo avviene in una città di cui spesso e volentieri si fa partecipazione, la parola un po' troppo, partecipazione, sinergie, cittadinanza attiva, queste sono le parole che vedo che ti fanno venire la pelle d'occa, però nonostante tu faccia tutte queste tre cose, però. Sì, allora, partiamo da un discorso, io tempo fa ho ascoltato una bellissima trasmissione in cui si diceva che le città hanno un po' sempre la tendenza a proibire, a proibire, con il crescere proibiscono e proibiscono appunto la libertà del cittadino di fare delle cose, una volta c'era chi aveva lo spazio privato su cui faceva delle cose, ma lo spazio pubblico era abbastanza lasciato all'utilizzo della cittadinanza. Oggi sempre di più viene impedito di fare delle cose appunto negli spazi pubblici. e su questo tema esistono a Milano, devo dire la verità, delle ottime soluzioni perché ci sono del tipo questo contratto dell'adotta il verde pubblico a cui ho partecipato, è appunto un contratto che ti permette di adottare un'aiuola, di presentare un progetto e di farla tua, ma tua nel senso di gestirla. Di gestirla, però la bella cosa è che la gestisci su un'area pubblica, quindi la disposizione di tutti, la lascia a disposizione del grandimento della città. E lo stesso discorso avviene anche con certe formule, come i patti di collaborazione, o come quelli che erano una volta i giardini condivisi, cioè queste aree in cui ai cittadini viene lasciata la possibilità di fare, e anche di prendersi della passione, che è un aspetto che se tu vai a far scemare, purtroppo rischi di diseducare i cittadini a coltivarsi una fioriera, a fare delle cose che poi è un peccato, perché viene lasciato poi tutto in gestione dell'opera, dell'amministrazione pubblica, e rimane solo alla polemica nel momento in cui l'amministrazione pubblica non fa il suo corso. Ecco, la polemica che appunto anche in questo caso sarebbe stata facile fare, una polemica facile fare, facile sarebbe a sicurare tutti facile anche dire, sapete che c'è, basta, non faccio più niente, e invece no, questa cosa non fa proprio parte del tuo DNA. No, no, assolutamente, tant'è vero che diciamo che io per la verità ho adottato tre nel corso della mia esistenza. No, 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 due, pensi tre. Sì, tre aree su cui appunto far questo tipo di contratto di adottare l'area pubblica. La prima è stata dieci anni fa allo spazio di Missaglia, dove curiamo un giardino sociale bellissimo, poi in via Montegani, e poi questa è stata la terza. Sono tutte state, c'è bellissime esperienze, anche perché in contesti diversi, e anche, fra l'altro, impari anche a capire che ogni luogo ha una sua caratteristica, una sua identità, perché il, per esempio, il, mai mi sarei aspettato, si parla spesso e volentieri di degrado, no, il degrado lo si fa, se ne parla sempre sul tema periferie, un po' del centramento, eccetera. In realtà vi posso assicurare che purtroppo il degrado esiste anche, l'educazione, chiamiamola non più che degrado, esiste anche nel centro città, perché io in queste fiore spesso e volentieri ci trovavo di tutto, no, abbandonato bottiglie, abbandonato cartacee, per cui... Si immagina, il pacchetto di sigarette che non so dove buttare, la poggio lì, una bottiglia di birra che non so dove buttare, la butto lì, esattamente. Giorno che non trovavi bambini o cognate buttate lì, non so dove mettere. Esatto, esatto. Quindi, infatti, mi dovevo prendere cura non solo di curare i fiori, ma anche di curare questi aspetti qua che forse erano preponderanti. Adesso non ci sono più le fioriere, cosa c'è di bello adesso su quel traffico? Adesso, purtroppo, sono tornate le auto. Oh, qui c'è il salone dell'auto. Sì, sì. Hanno fatto un salone dell'auto così gratis. Non sei contento, Mario? No, purtroppo è così. Diciamo che ho avuto assicurazioni dopo le scuse che lì verranno posti dei dissuasori, i famosi tronchi che sono compassi in altre parti della città. Quindi comunque ancora belli, nel senso non quattro pezzi di ferro. No, 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 questi tronchi e poi magari da lì chissà che possa rinascere qualcosa. Mario, dimmi se sbaglio, penso siano i famosi tronchi degli alberi caduti nel luglio del 23, riciclati in questo caso, riutilizzati a dissuasori, i panchini in alcune zone. Bene, bene. Bene, allora Mario, rimani qui con noi però perché poi voglio sapere tutte le altre. So che stai costruendo un magazzino, questo mi ti va di raccontarlo. Andiamo con un po' di musica, pubblicità e poi ancora qui con Mario perché sta costruendo cose, non so, c'è un furgoncino piccolissimo ma fa duemila viaggi avanti e indietro per portare cose avanti e indietro, quindi insomma rimanete con noi. Mario Donadio è tutto quello che combina in questa città. Ivano Fossati, La mia banda suona il rock. La mia banda invece suona tutto quello che volete tutti i giorni dalle 7 alle 9 è qui su Cristian Radio con Good Morning Milano 331-78-535-55 è il nostro numero di Whatsapp. Grazie per i messaggi che ci stanno arrivando, grazie per i Whatsapp che ci scrivete ogni mattina e insomma se avete anche qualche curiosità da chiedere a Mario Donadio potete farlo. Mario Donadio, il volontario attivista che appunto nonostante le brutte sorprese al ritorno dalle vacanze quindi queste fioriere di questa iuola da te adottata tolte da AMSA su indicazione dei vigili, su indicazione di qualcuno che forse pensava fossero abusive, sta di fatto che non hai perso però la voglia di fare, non hai perso la voglia di mettere, di collegare le realtà sociali di questa città. Cosa stai combinando di bello adesso? Adesso sempre sul tema costruzione perché poi la mia passione è anche... quando si dice sono un costruttore di relazioni, no, non lo proprio costruisce, oltre a fare ragazzo, lo proprio costruisce con le mani il seghetto, i chiodi, l'abitatore e via. Sì, adesso sto costruendo... Allora, è nata nell'ultimo baio di anni una passione che è quella del riciclo, riciclo inteso come recupero di cose che prima erano delle applicature computer, elettroniche, eccetera, che... Vi do una piccola cosa, la redazione di Good Money Milano ringrazia Mario Donadio, ad esempio. Cioè così, eh? Avevamo lanciato questa iniziativa anche con dei volontari, eccetera, di ricondizionare gratuitamente questi computer che poi donavamo. E poi da lì poi perché un po' la mia attività lavorativa non mi portava a distrarmi da quello che era. Per sempre il volontario era nel stesso ambito. Allora ho cominciato a raccogliere giochi, giochi e libri per bimbi e che è tanta questa passione. Poi da lì è nata anche tutta una rete di riciclo in cui ci sei anche tu. Eh sì, è bellissima. Chietra prende questa parola riciclo che di solito siamo abituati a collegare diciamo alla pattumiera che noi buttiamo via e qualcuno poi ricicla. In questo caso il riciclo è proprio che viene messo in ciclo, cioè riciclo, cioè ricontinua a rigirare ma non solo una volta. Io vi porto un esempio, c'è stato un esempio, mi porto un esempio, qualche, ormai un annetto se non più fa, facciamo un ritiro di stampanti, ok? quella stampante uno di queste stampanti finisce nella nostra redazione viene usata nel senso che viene usata per un periodo dopodiché non ci serve più ritorna sul sito cioè ritorna su quel gruppo e adesso è finita a un'altra associazione che dopo la nostra associazione aveva bisogno di questo tipo di stampante. Quindi insomma ci sono cose che tornano, ritornano, vengono usate poi ritornano lì dentro perché insomma a volte è tipo un proiettore servito per un piccolo periodo poi dopo è stato rimesso nel gruppo perché qualcun altro potrebbe usare anche perché dico questa cosa a qui del gruppo ci sta ascoltando tranquilli se vi perdete qualcosa una volta tanto ritorna cioè è micidiale come veramente sono delle cose che ritornano sempre ci sono sempre sempre quindi c'è sempre soprattutto per le associazioni che hanno bisogno c'è sempre il modo di trovare la soluzione assolutamente sì poi le buone pratiche fanno bene all'ambiente e soprattutto è molto bello quando tu trovi un prodotto che pensi che non possa servire più che venga invece apprezzato da qualcuno è quello che prova gioia nel riceverlo ecco questo senza neanche senso di colpa non ti preoccupare tu l'hai usata basta l'hai ammortizzata non l'hai neanche usata fa niente tanto mai l'hai comprata ma c'è qualcuno che nella tua nell'inutilità di quell'oggetto per te troverà invece un'utilità e qualcosa che possa servirgli insomma questo vi fa capire un po' come Mario si mette sta costruendo che cosa me lo dici subito dopo lì perché adesso andiamo con un po' di musica e poi tengo sulla sospanza il nostro pubblico perché sta costruendo davvero qualcosa di pazzesco e soprattutto a mano lui cioè nel senso Lickily un po' un po' nei boscoli che ritiravo da donare vuoi l'età che comincia a avanzare vuoi un po' il fatto che anche mia moglie che si lamentava giustamente che ogni tanto gli portavo i sacchi li lasciavo in sala insomma tutte queste cose ho trovato la fortuna di un privato che mi ha messo a disposizione un'area nel garage proprio dell'auto e lì sto costruendo questo magazzino di giochi anche qui sul tema riciclo riciclando dei pallets non sei andato a fare la joint venture con il grande fornitore di mobili finlandesi dico per non dire quell'altra nazione e invece hai grazie a questa donazione di questi pallets da parte di questo amico che ha un'azienda ne ho contate i 120 fino adesso 120 quanti ce ne stanno dentro il tuo furgone ce ne stanno 7 io non sono bravo in matematica a fatti i conti sono sicuramente 20 viaggi più o meno sono 20 viaggi 20 viaggi poi insomma sto costruendo queste scaffalature belle e robuste più anche delle librerie che ho portato delle librerie donate che quelle serviranno per stivare i libri e piano piano sto appunto apprezzando questo questo magazzino che diventerà un po' la logistica magazzino logistica delle associazioni cioè un luogo dove le associazioni potranno potranno attingere giochi oltre al fatto che da lì partono quei giochi che io distribuisco nelle varie postazioni che con altre associazioni stiamo gestendo sul territorio milanese nelle case popolari dove lasciamo giochi perché anche lì attenzione è vero i nostri figli sono strappini di giochi però ormai li abbiamo presi non sentiamoci in colpa dire ecco hanno tutto c'è chi non ha niente bene hanno tutto si stufano di quel giocattolo non buttatelo chiamate Mario tanto la maggior parte delle volte non è neanche rotto si stufano prima di romperlo quindi buttate a Mario che lo rimette in circolo appunto la cosa interessante appunto che tu puoi continuare a dire sarà il magazzino delle associazioni però c'è non è il magazzino Marios Donadios magazzino no 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 deve essere un qualche cosa a disposizione di tutti proprio nell'ottica di quel discorso che ci si fa prima di fare rete e quindi di far sì che tutti possano dare un contributo nell'aumentare il tema del riciclo e del riuso anche perché so che per molte associazioni dove mettere le cose è un grosso problema e spesso si perdono anche possibilità di ritirare dei beni stupendi perché non si sa dove metterli sì esatto o non si sa come trasportarli sì questo è un altro tema quella è un'altra nota dolente perché quello del trasporto è un peccato perché poi per esempio sul tema degli arredi ci sono tante famiglie che avrebbero bisogno di tante cose e ci sono tanti donatori e se si avessere l'opportunità di avere dei mezzi da parte anche che so delle amministrazioni un qualche un qualche soluzione da mettere in espressione delle associazioni ecco io mi immagino un noleggio gratuito per le associazioni di mezzi per fare questo tipo di attività serve veramente una grandissima cosa e ancora qui abbiamo visto come ragiona Mario Donadio nel senso non è che ha detto ecco il comune non fa niente troviamo una soluzione insieme c'è questo il bello non è sempre solo lamentarsi anzi nel tuo caso non è mai lamentarsi ma non è appunto portare il problema e fermarsi lì ma è cercare di dire una soluzione la si può trovare certo ma infatti la collaborazione tra cittadinanza e istituzioni è sempre necessaria e fondamentale perché è il cittadino che porta alle amministrazioni che magari sono prese su altre tematiche e non hanno tempo deve portare quello che è un po' l'esigenza del territorio e su questo punto tema le relazioni propositive sono fondamentali insomma speriamo allora di poterle fare so che tu hai un ottimo rapporto anche con i municipi quindi che sono fondamentalmente i nostri primi interlocutori e che speriamo appunto abbiano sempre invece c'è più possibilità di poter fare e noi li sponsorizziamo sempre assolutamente sì infatti questo è un'altra è un altro sogno diciamo quello che i municipi abbiano sempre più autonomia nel lato pratico di gestire le cose perché sul tema di questi contratti noi andiamo dal comune a sottoscrivere i contratti di gestione della IOL sarebbe bello anche che un domani si potesse andare dagli stessi municipi e fare questo tipo di attività ce lo auguriamo municipi che sono già stati tirati in mezzo ad esempio sui pits che hanno la possibilità di gestire i piccoli eventi diffusi insomma si sta facendo qualcosa speriamo sempre sempre di più perché insomma è fondamentale ricordiamo poi che i nostri municipi sono dei piccoli comuni anzi neanche piccoli insomma 150-140 mila abitanti il Culture Club con Karma Chameleon 8.52 siamo quasi arrivati alla fine anzi Mario come possiamo fare per seguire un po' le tue avventure e vicissitudini allora c'è un sito che si chiama qui milanoricicliamo.it qui milanoricicliamo sì punto it dove sono elencate un po' tutte le attività i riferimenti più la pagina qui milano su Facebook perché cerchiamo sempre di raccontare quello che facciamo che è importante anche perché chi ti dona ovviamente giustamente deve anche sapere che quello che regala va a buon fine altro tema di cui non stiamo ad aprire cose varie tra parentesi no fammi fare la battuta polemica sul sito sono girati anche Panettoni e Pandori che sono finiti però dove dovevano finire basta scusate l'ho detto così senza ogni riferimento puramente casuale comunque Mario grazie mille ah se volete seguite anche comunque Mario Donadio cioè sui social quanti amici c'hai su Facebook hai già dato i 5.000 eh sì 5.000 sei come quelli fighi capito c'è la spunta blu c'è la spunta blu ma lì diciamo più narrarmi ma che ne metto insieme ho letto una cosa stamattina che è scritta molto bella dopo la vado a rileggere bene l'ho letta quando ero assonnato mentre venivo in redazione però parlavi di giovani cose che hai visto fatti sul lavoro comunque grazie mille Mario Donadio grazie a voi dell'ospitalità come sempre è bellissima la redazione ti piace l'atmosfera quando vuoi venire qua io dico sempre bellissimo gruppo siete un bellissimo gruppo bene ringraziano dalla regia fanno cenni di ringraziamento grazie e allora grazie mille a Mario Donadio andiamo con la nostra sigla 8 e 54 minuti come sempre qui alle sigla finiti dai dicevamo dicevamo che dopo di noi c'è senti questa come sempre tutti i giorni fino alle 10 dalle 9 alle 10 c'è senti questa con Ambrogio Cutti la musica italiana internazionale raccontata spiegata letta tra le righe insomma quegli aneddoti che ci sono dietro alle canzoni che magari cantiamo tutti i giorni ma non sappiamo beh Ambrogio Cutti ce le spiega molto molto bene se invece volete riascoltare tutto quello che è successo questa mattina o nelle mattine precedenti se avete persi qualcosa bene goodmorning.milano.it il nostro sito internet oppure ci sono i nostri podcast sia su Spotify che su Apple Music e comunque domani siamo ancora qui dalle 7 alle 9 sempre in diretta su Crystal Radio FM 96.2 Dub Plus l'applicazione per iOS Android e tutto anche il mondo diciamo dell'internet le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Fabio Ranfi Mario Donadio e poi alla regia a Gineva e in redazione Beatrice questo è Good Morning Milano ritorniamo domani mattina come sempre qui per raccontarvi Milano la città metropolitana è tutto quello che rende grande la nostra città ciao a tutti a domani a domani a domani Grazie a tutti.